Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it. Io credo che, basato nel ultimo gioco, il focus è di ottenere la nostra intensità. Non è stato lì negli ultimi due giorni. Quindi potrei andare dal primo gioco fino dal ultimo gioco. Iniziamo con la loro difesa e poi abbiamo scoperto. Abbiamo sicuramente alzato di molto intensità. Abbiamo giocato veramente bene dall'inizio alla fine, dal primo secondo all'ultimo. Ottima e grande prestazione. Questo lo dirò io. Sì. Io vorrei dire che chi giocava il tuo gioco? Sì. Question per Kravic. Ok. 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 Buona notizia. Ovvani, bua vena. Bua reazione. E' un'argomento. Non ho aspettato niente. di un'intensità di vista di un punto di vista di un'intensità. Dobbiamo andare da giorni per giorni, mettere qualcosa che può distinguire questo club. Credo che il più importante cosa di oggi era l'honorare il grande Alberto Bucci. Credo che tutto l'anno è stato per lui e questa attitudine dei nostri giocatori era davvero l'honorare un buon uomo, un buon personaggio, magari la persona più carismantica nella storia dell'italiano, ma anche dell'Europa. Era davvero qualcosa di altro. E questo è il primo pensiero. Come? Abbiamo fatto un'ottima vittoria, un'ottima reazione e non mi aspettavo niente di meno... Non mi aspetterò. Non mi aspetterò niente di meno dai miei ragazzi perché la Virkus è questo team che deve essere così, deve essere onorata la maglia. Stasera, specialmente onorando anche le memorie e i ricordi di Alberto Bucci, dobbiamo un grande uomo, un uomo forse più carismatico del basket italiano, del basket anche europeo. È stata un'ottima prestazione e deve essere così sempre per la Virkus, l'attitudine, l'atteggiamento. È quello giusto. Question? L'impressione... 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 Si, si può. Dopo un elemento ovviamente si può fare poco, però l'impressione è che i suoi giocatori cercassero molto di cercarsi tra di loro. Anche l'extrapense, magari anche quando non serviva, però per il raggiungersi è un'impressione corretta. se l'ha visto bene, poi dopo lo vedrò, però penso che sì. È una filosofia di palacanetto dal paese da dove vengo io. Una filosofia storica, penso. Quindi una cosa che noi veramente sappiamo fare, penso anche le mie squadre, è quello di giocare insieme, passarsi la palla, sentirsi importanti ognuno di loro e penso che questo sarà uno dei cammini non unico, ma uno delle cose su quale si insisterà anche in futuro. È molto semplice. Abbiamo cambiato l'urlo del 1-2-3, era 1-2-3 together, quindi questo è un po' il messaggio che io vorrei che partisse da oggi. e Simone. Buonasera. 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 Quindi lo devo spostare. E la seconda, tu ovviamente hai girato l'Europa, conosci bene, nelle otto, probabilmente, adesso manca un risultato, otto squadre di otto nazioni diverse. C'è secondo te uno o due più forti delle altre? Guardando i roster? Secondo me, ogni squadra può andare a giocarsela fino alla fine, perché è così, Final 8 è così, soprattutto Final 4. Adesso dobbiamo concentrarsi sulle altre cose, sul campionato italiano, io soprattutto, e non penso in questo momento lì, sicuramente una competizione che sta lì, che è davanti a noi, a cogliere questo treno, io sempre dico, e l'ho già detto ai giocatori, i treni passano una volta nella vita, questo è il treno, se volete salire su, che diventa vincente, prego, you're welcome, siete benvenuti, mi tocca. anche lì è semplice. Grazie. Prego. Buonasera Coach, sono qua. Buonasera. La prima partita, dopo la prima partita, la tua impressione su questa squadra? Penso sia troppo presto, di solito le squadre, quando si cambia allenatore, reagiscono. Quindi, siamo onesti, è troppo presto, non sono riuscito neanche a sgridare nessuno, almeno oggi, due o tre ore. quindi, c'è tempo, c'è tempo per avere una impressione certa. Però, io ho anche una filosofia alla vita, finché non vincono sul campo nessuno, io non dico a nessuno sulla carta che è meglio di me, non dico di me personale, ma della mia squadra. Quindi, se non fossi qua, se sono qua, e per quello che credo in questa società, in questo progetto, questi ragazzi, continuerò a credere, insegnandogli qualcos'altro. E' vero che la squadra... Buonasera, sono qua. Buonasera, non vedo. E' qua. E' qua. Ah, ciao. Difficile non vedere. E' vero che era lecito aspettarsi una reazione, però la squadra veniva da una serie di partite in cui aveva incassato molti punti, sia in Coppa che in Campionale. E invece stasera ha dato immediatamente un'anima difensiva e è andata sul binario difensivo, ha messo la partita su quel binario. in questo qualche cosa ci sarà altro contributo. No. 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 Cercheremo di migliorare, se si può, ovviamente, ognuno ha le sue idee e quindi va per la propria strada. Io le mie ho cercato di trasmetterle sia ieri che stamattina. In alcune cose ci siamo capiti, però è molto importante che questa responsabilità individuale di voler proprio mettere il sedere per terra e sbattersi difensivamente rimanga sempre, in ogni allenamento, in ogni partita, solo così possiamo parlare che la squadra avesse colto qualche caratteristica difensiva giusta. Quindi partendo dall'ognuno poi vedremo più avanti, ci sono le idee poco a poco. La cosa che mi, un po' è una sfida, è perché non c'è tempo. È vero che sono abituato con queste finestre, che non hai tempo per lavorare, in due o tre giorni devi mettere tutto. Però sempre allenatore avrebbe bisogno o vorrebbe qualche giorno in più per allenarsi. Quindi ai ragazzi gli tocca fare tanta palestra adesso. Allora, come ho accanto, guardate le conoscenze.